Mi ricordo che quando ero piccola piccola, come voi, correvo, giocavo, saltavo e sapete cosa facevo? Beh, proprio perché siete voi ve lo dico, ve lo dico! Appiantavo ramoscelli di tè nella terra per fare un giardinetto. E poi i ramoscelli hanno messo le radici, sono cresciuti e ora sono diventati grandi alberi. Mi ricordo che nella mia camereppa c'era un catino pieno d'acqua dove navigava la mia barchetta. Eh, come navigava! Ma io sono andata a navigare molto più lontano! Sì, 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 ma andiamo per ordine. Prima sono andata a scuola per imparare qualcosa. 0 per 0, 0, 0 per 1, 0, 0 per 2, 0, 0 per 3, 0, 0 per 4, 0, 0 per 5, 0, 0 per 6, 0, ma sempre 0! Poi, poi ho fatto la comunione, sì, la prima comunione. E piangevo, piangevo, ma quanto pianto, sì! Ma lo stesso giorno sono salita sulla torre rotonda e da lì ho visto tutta la città di Copenaghen e il mare.